Si apre oggi e rimarrà aperta fino al 14 di gennaio in Palazzo Pretoria Filline, una mostra interessantissima su Marsilio Ficino e su tutto ciò che è ruotato intorno a Marsilio Ficino. Si esattamente, a 590 anni dalla nascita, oggi il 19 ottobre, il giorno del suo compleanno, abbiamo deciso di festeggiare questo 590esimo compleanno anniversario dalla nascita del più grande e illuso cittadino di Filline Incisa, proprio una mostra all'interno del Palazzo Pretorio che è un grande evento, anzi il più grande evento culturale del 2023 per il nostro comune, dedicarlo a Marsilio Ficino, vicino a Piazza Marsilio Ficino, proprio in un contenitore che racconta il contesto storico che ha vissuto, il pensatore, il filosofo, sacerdote, una grande figura iconica dell'umanesimo e del rinascimento fiorentino e quindi europeo e quindi contestualizzando nel periodo in cui ha vissuto e portando anche i propri manoscritti, le trascrizioni e in alcuni casi anche gli appunti specifici di Marsilio Ficino, facendo vedere e avvicinando in particolare i bambini e le genome generazioni con laboratori pensati specificatamente per avvicinare e togliere dal pedistallo una grande figura che rischia sempre di essere di difficile comprensione e rende la disposizione di tutti aumentare la consapevolezza e la conoscenza della nostra cittadinanza, nei confronti di questo grandissimo pensatore. Una mostra che si apre oggi, si chiuderà il 14 gennaio, ad accesso completamente gratuito, in particolare nel fine settimana, con disponibilità per visite guidate, tutto in maniera completamente gratuita tramite prenotazione, quindi veramente un contenitore culturale pensato per tutti e tutte, per le famiglie, per gli appassionati, per i bimbi, perché la cultura deve essere di tutti, deve essere accessibile e soprattutto un grande elemento di orgoglio per il territorio deve essere vissuto dalla cittadinanza in maniera inclusiva e senza limitazioni di ogni genere. Grazie.